Era parso molto sospetto che l'uomo all'alte dei polizzotti non si fosse fermato. Sabato pomeriggio nel quartiere Madonna di Campania, quello che doveva essere un ordinario controllo di polizia che avrebbe comportato tutt'al più una sanzione per mancate osservanze delle misure anti-covid, porta invece all'arresto di un cittadino marocchino per recitazione. Un dettaglio colpisce l'attenzione delle agenti. Un pezzo di scotch di colore nero trasforma la prima lettera della targa da F a E. Sottoposto controllo, l'uomo presentava diversi precedenti specifici che hanno indotto gli operatori della squadra volante a effettuare una perquisizione nel suo domicilio. All'interno della camera matrimoniale, i poliziotti hanno trovato ingenti quantità di merci di vario valore. Tra il materiale digitale rinvenuto, una chiavetta USB e un lettore DVD con all'interno un CD per bambini. Grazie alle indagini svolte, i rispettivi proprietari sono stati rintracciati e contattati per la restituzione. erano stati oggetto di furto delle loro auto mesi prima. L'uomo, un cittadino marocchino di 34 anni, qui regolarmente residente, è stato arrestato per recitazione e resistenza pubblico ufficiale.